Taranto via Diego Peluso nel tratto compreso tra via Mazzini e via Oberdan. Voglio farvi vedere le condizioni del manto stradale, gli sprofondamenti che si susseguono uno dietro l'altro. Vedete questa è la zona, siamo quindi in una zona centrale. È importante questa via Diego Peluso perché ovviamente tagliano e poi si arriva in via Dante e così via. Guardate, andiamo per ordine. Una persona sta camminando, ma anche le macchine, il peso si sprofonda, si scende, guardate, si vede col piede la distanza. Ma magari fosse un caso isolato. Andiamo poco poco più avanti, qualche decina di metri e anche qui nuovo sprofondamento e nuovo avvallamento. camminiamo, è proprio la via degli sprofondamenti. Qui un altro. Si sale, si scende, si scende, si sale, come sulle montagne russe. Guardate qui, alto sprofondamento, si sale e si scende. non è finita. Il meglio viene adesso, come dice Melucci. Anche qui un ulteriore sprofondamento. Il meglio viene adesso e forse magari queste conche, relative agli sprofondamenti, magari sono quelle conche in cui seminare la rinascita. Al di là delle battute, voglio sdrammatizzare, ma scusate, una scala di priorità, lo dirò fino alla nausea, di interventi. Una valutazione delle strade rispetto alle quali si fa una graduatoria per stabilire gli interventi, per dire questa strada sta più precipitata dell'altra. Allora devo intervenire prima in questa strada e poi nell'altra. Nulla. La realtà grave è che a Taranto non viene fatta una scala di priorità per quanto riguarda gli interventi nelle strade, nel senso che si dovrebbero valutare le varie strade e quindi in base appunto alle emergenze procedere prima con quelle strade che stanno più precipitate. Nulla. Qui a Taranto si naviga a vista, si procede a tentoni, così nel momento in cui c'è proprio un precipizio si apre una voragine, si interviene, si mette un po' di asfalto, si tampona l'emergenza, si mettono le toppe. E guardate qui c'è gente anziana che cammina e qui ci sono dei rischi gravi perché si rischia di cadere, vero signora? No, ho rischiato di cadere sul marciapiede, che è impossibile camminare, guarda, è impossibile. Guardi qui si precipita, proprio c'è il vuoto. Si vede specialmente, quanto è buio, uno non si vede, non è che c'è tanta luce. E trova il fosso e ci cadere. E ci cadere. Ne so qualcosa io. Signora, tanti auguri. Beh, sentire la voce di queste nonnine apre il cuore perché c'è gente che vorrebbe vivere bene, vorrebbe vivere serenamente la propria vecchiaia, i propri anni e invece deve imbattersi in queste schifezze, in queste incapacità amministrative. Non è che ho concordato l'appuntamento con la signora, stava camminando e ha rilevato quello che io vi sto dicendo. Melucci, pensa che quella potrebbe essere tua mamma, tua nonna, un tuo familiare anziano. Stessa cosa dicasi all'assessore ai lavori pubblici, ora Fabrizio Manzulli, ma prima Mattia Giorno, ma prima Ciraci e prima ancora Mattia Giorno. Evidentemente vi manca anche il senso di umanità, perché se no vedendo un anziano dovreste scappare, precipitarvi per mettere in sicurezza queste strade. Una sola parola, pena e vergogna. Grazie. Grazie.